La Betafence cambia idea. La multinazionale, che produce scale e recinzioni metalliche, rimarrà a Tortoreto, ma vuole essere pagata. Il Colosso, infatti, a luglio aveva annunciato l'intenzione di delocalizzare in Polonia, dove tassazione e costo della mano d'opera sono molto meno onerosi che in Italia. E questo a discapito dei 155 lavoratori, benché la Betafence goda di ottima salute. Sempre inutile i bilanci degli ultimi anni, anche durante la pandemia. Ieri mattina l'ennesimo incontro tra l'azienda, le istituzioni e i sindacati. Ed ecco la svolta. La Betafence ha dichiarato ufficialmente di non voler dismettere il sito di Tortoreto. Ma anzi si sta valutando un'ampia ristrutturazione, così da rilanciare il sito come centro d'eccellenza. E un passo avanti, ha commentato il neossessore regionale al lavoro e alle attività produttive, Pietro Quaresimale. La ristrutturazione però, avvisano i rappresentanti dell'azienda, comporterà comunque un minimo di esuberi. Insomma, qualcuno perderà il lavoro in ogni caso. E il minimo di cui parla la Betafence, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe riferirsi a circa 50 lavoratori, un terzo di quegli attuali. E questa è la notizia che ci tiene. Massima allerta, ha detto Quaresimale. Anche se l'azienda ha confermato l'intenzione di aderire, ha concluso l'assessore, a tutte le forme di welfare per le cosiddette uscite morbide. E non è finita qui. Se la multinazionale dovesse rimanere a Tortoreto e il sito della provincia di Teramo dovesse essere riqualificato, allora la formazione degli addetti sarà pagata dalla regione Abruzzo. Questo è il prezzo della Betafence nella nostra regione. E mentre da settimane e settimane si attende la convocazione di un tavolo al mese con il ministro Patuanelli, tra un mese ci sarà un nuovo incontro tra regione, Betafence e sindacati.